Quindi ho fatto bene perché sembrerebbe che sono arrivate nuove offerte che adesso tra dieci giorni contenere perché c'è una distribuzione internazionale che ha comprato, vedranno tantissimi stranieri anche il nostro film Il Rabdomante che in Italia è già uscito. Ma quanto è bella questa ragazza, quanto è bella e quanto è brava. Sempre. Sia come donna sia come professionista che lei è un esempio di forza perché riesce a mantenere l'equilibrio tra carriera e umanità ed è una bravissima mamma. Tu sei ancora giovanissima, puoi aspettare per un figlio, ma se eresse un figlio, tra sti fa, è stata vinta da Isonora, Isonora che stanno avendo un successo internazionale. Poi c'è stata la scelta e al terzo posto il più giovane concorrente del Festival di Sanremo, Jacopo Troiani. Ecco la nostra rosa. Come state? Allora Pippo, basta che li alzavi in piedi e si vedeva questo questa cosa. Anzi, se l'uomo italiano ha un grande rispetto per la madre, lo può anche avere per la donna che ama. Per cui questo va bene. A me va bene. Portatemi un po' che c'ho, c'ho detto Andrea e grazie a Ena Vetter. Ci vediamo dopo, a te, non andiamo via. Ciao. A luglio, a luglio. Un piacere, grazie.